Buongiorno a tutti e benvenuti a questo evento che si svolge proprio in corrispondenza di una data importante per il CSMT era infatti il 22 dicembre del 2006 quindi 15 anni fa quando la provincia di Brescia il comune di Brescia la camera di commercio l'università degli studi di Brescia e Confindustria allora ancora AIB ebbero l'intuizione e la visione di dotare il nostro territorio di un polo tecnologico per fare da tramite fra il mondo della formazione della ricerca e quello delle imprese ringrazio le istituzioni le associazioni di categoria gli istituti bancari e tutti i presenti oggi per la vostra significativa partecipazione anche in un periodo molto prossimo alle festività natalizie sarà un'occasione ovviamente per scambiarci gli auguri saluto in particolare tutti gli studenti degli istituti superiori dell'università statale e cattolica che ci stanno seguendo in streaming e insieme a tutti i cittadini che ci stanno seguendo in una diretta che è stata messa a disposizione dal giornale di Brescia e quindi ringrazio per la disponibilità che sempre ci dedica oggi avremo l'occasione di sentire molti interventi con un format vivace e innovativo sul modello californiano del TEDx lo faremo alla Bresciana ovviamente parleremo principalmente ai giovani e parleranno i giovani perché parleremo e introdurremo per la prima volta all'attenzione della città di un progetto molto innovativo che crediamo aiuterà Brescia e quando parlo di Brescia intendo il territorio bresciano dalle valli ai laghi dai monti alla pianura nella nostra meravigliosa provincia di Brescia e aiuterà il nostro territorio ad affrontare le importanti sfide e trasformazioni che ci attendono per affermarci come un modello di città moderna innovativa e sostenibile quando quest'estate mi è stato proposto di assumere la presidenza del CSMT gestione ho chiaramente compreso come si trattasse di un grande onore ma anche di una grande responsabilità nel corso degli ultimi 20 anni io ho dedicato 100 per cento del mio tempo allo sviluppo della mia azienda e oggi la mia decisione di accettare questo impegno importante e oneroso è un desiderio di restituire a Brescia parte di quello che Brescia mi ha donato senza l'opportunità che mi fu data l'università degli studi di Brescia alla fine degli anni 90 di costituire una società di spin off dal laboratorio di opto elettronica di allora oggi probabilmente la mia azienda non ci sarebbe io sarei probabilmente un ingegnere nel mondo chissà dove a portare il mio contributo e quindi uno dei ruoli del CSMT fra i tanti è proprio quello di supportare l'avvio di iniziative e di startup come quella che una volta era Antares Vision oggi un valore importante del territorio e cercare di replicarne delle altre con le adeguate risorse e con i modelli ad hoc di sviluppo che cercheremo di adottare il periodo che stiamo vivendo rappresenta certamente un momento di grande complessità e rappresenta un momento di grande discontinuità in questi momenti ci sono tante minacce tanti rischi per noi ma ci sono anche tante opportunità e chi è in grado di cogliere andrà avanti e porterà un futuro migliore al proprio territorio chi non lo farà è destinato a regredire forse in modo irreversibile e quindi proprio chi come noi vive in una città in un territorio che ha una posizione di privilegio di uno storico benessere intendiamoci conquistato con grande sudore con grande lavoro dai nostri genitori soprattutto in seguito alla ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale noi abbiamo la maggiore responsabilità di assicurare la continuità del nostro benessere anzi se possibile dobbiamo approfittare per migliorare il nostro posizionamento questo quindi è il nostro momento è il momento deve essere il nostro momento momento di unire le forze e qua c'è la rappresentanza più importante della nostra cittadinanza e costruire insieme la brescia del futuro sarà un processo certamente difficile di profonda trasformazione in cui dobbiamo lavorare insieme per continuare ad assicurare il benessere al nostro territorio benessere sociale economico e ambientale per fare questo oggi brescia più che mai ha bisogno anche di dare un'identità forte distintiva attrattiva affinché i giovani bresciani possono restare decidano di restare non siano costretti a trovare altrove la loro opportunità il loro benessere di più direi affinché chi non è bresciano voglia venire nella nostra città per studiare per lavorare e perché no per vivere e contribuirne allo sviluppo e noi qua siamo in un territorio molto ricco siamo molto fortunati abbiamo tutto quello che serve per sviluppare il nostro futuro abbiamo un territorio meraviglioso come detto con grandi potenzialità anche nel comparto turistico abbiamo una vocazione universitaria fra le più importanti in italia l'università degli studi di brescia è nata solo 40 anni fa e oggi è già una delle prime dieci università italiane abbiamo l'università cattolica che ha fatto un grande investimento quest'anno per ampliare per investire sul territorio bresciano abbiamo un patrimonio artistico e culturale rappresentato da questo museo di altissimo rilievo abbiamo risorse economiche finanziarie notevoli grazie ad un tessuto di piccole e medie imprese industriali ed artigiane fra i più sviluppati non solo in italia in europa nel mondo direi siamo la prima provincia per produzione agricola in lombardia che è la regione principale in italia ma chiaramente tutti questi comparti però facciamo attenzione dovranno giocare una partita cruciale nei prossimi anni per mantenere la loro competitività e sostenere i grandi cambiamenti che il mondo ci farà affrontare ecco questo ecosistema di eccellenze che rappresenta nostra provincia è brescia tutto questo insieme questa eterogeneità di competenze e risorse è la vera nostra forza che dobbiamo catalizzare in un'identità ben riconoscibile in cui prima di identificarci noi stessi riconoscerci come bresciani per questo ecosistema che abbiamo a disposizione e poi opportunamente comunicarlo al di fuori un'identità distintiva su cui dobbiamo investire e poggiare il nostro sviluppo futuro un'identità che aiuti a creare una meta condivisa su cui concentrare tutti i nostri sforzi ognuno per le sue responsabilità quando il presidente della repubblica venne a brescia per inaugurare la vittoria alata restaurata ci esortò affinché quel importante momento fosse simbolo di un nuovo rinascimento per la città il rinascimento fu un'epoca straordinaria dove fu l'arte che fu lo stimolo trainante per la trasformazione della società italiana noi oggi pensiamo che la nuova arte del rinascimento sia l'innovazione sostenibile fare insieme innovazione sostenibile è la mission del csmt sostenibilità sociale economica e ambientale è il vero benessere e l'innovazione è lo strumento per raggiungere questo innovazione della tecnica innovazione di pensiero innovazione di come usufruire del nostro territorio e delle nostre risorse artistiche e la cittadella dell'innovazione sostenibile di cui si parlerà in seguito in dettaglio può essere la messa a terra di questo concetto innovativo in cui l'ecosistema brescia può identificarsi e trovare un nuovo modello virtuoso di sviluppo un luogo fisico dove brescia si incontra e si sviluppa come avvenne nelle botteghe rinascimentali dove l'arte la cultura e la tecnica trovarono la loro sintesi e crearono le condizioni per lo sviluppo del mondo moderno tutto nacque da una città era firenze un progetto che per essere realizzato deve essere il progetto di sistema il progetto di ecosistema di brescia un progetto di collaborazione fra pubblico e privato che rappresenti la volontà di sviluppo di brescia e che consenta anche di aggregare tutte le sinergie di iniziative sul territorio che stanno procedendo anche collegate al PNRR dandone più forza in un'esecuzione coordinata vi ringrazio quindi fin d'ora per il contributo che sono certo che state già rendendo e vorrete rendere insieme per rendere la nostra città ancora più splendida grazie allora avrete capito che oggi non è un caso che siamo che siamo qua che siamo in quello che è un luogo meraviglioso che rappresenta l'arte e la cultura di brescia e quindi rappresenta l'uomo al centro e quindi invito a dare il benvenuto alla padrona di casa e quindi invito qua Francesca Bazzoli presidente di Brescia Musei grazie mille per averci ospitato mi fa sempre un po' effetto quando vengo definita padrona di casa di questo luogo in realtà tutti siamo padroni di casa di questo luogo io credo che non possa esserci davvero un luogo migliore per celebrare questo inizio e di questo voglio ringraziare CSMT per la lungimiranza di sceglierci come luogo iniziale perché questo credo valorizzi appieno da un lato l'idea dell'eredità culturale di una città come fattore decisivo e imprescindibile dello sviluppo e dell'innovazione voi sapete l'eredità culturale come definita dalla convenzione di Faro e questo insieme di risorse sia pubbliche che private a chiunque appartengono in cui la città quella città annette la comunità di appartenenza annette valore risorse che vengono dal passato e sono questo serbatoio immenso di capacità di risorse che guardano al futuro io credo che l'innovazione si pone in modo necessariamente dialettico con un'eredità come questa nel senso che non c'è innovazione se non rispetto a qualcosa che deve essere superato ma non c'è nemmeno innovazione che non affondi le radici in un bacino che qui noi conserviamo e quindi queste risorse che sono beni materiali come quello in cui siamo ma anche beni materiali che appartengono a tutta la città di cui noi che noi parzialmente noi che gestiamo i musei della città costudiamo davvero possono essere un fattore decisivo per lo sviluppo e l'innovazione della nostra città in questo senso credo che la trasformazione della consapevolezza della nostra città sempre più forte come città anche capitale culturale abbia un ruolo decisivo nel definire lo sviluppo che abbiamo davanti ma sono grata della scelta di questo luogo anche perché intercetta pienamente il lavoro che noi di brescia musei stiamo ovviamente in alleanza col comune stiamo tentando di fare che è quello di accreditare sempre di più l'idea dei musei come luoghi che non sono solo i luoghi della conservazione del patrimonio del passato e nemmeno i luoghi della fruizione di questo patrimonio noi vogliamo fare un passo in più lo stiamo proponendo anche come modello in italia cioè il museo soprattutto quando è un museo civico che sta al cuore della vita della città come luogo della partecipazione attiva il luogo dove il nostro patrimonio viene messo a disposizione di tutta la città e quindi diventa un centro di alleanze noi stiamo costruendo in modo molto determinato e consapevole le alleanze con la città con le istituzioni culturali ma anche con le rappresentanze del mondo imprenditoriale con tutte le istituzioni possibili perché il museo è il luogo che accoglie la città ed è anche luogo che deve uscire da se stesso per andare incontro alle esigenze della città e diventare un momento di costruzione insieme alla città questo nostro patrimonio che noi costudiamo è a disposizione di tutti quindi grazie mille per essere qui oggi credo che davvero sia la manifestazione migliore di quello che che noi stiamo cercando di fare ma anche di come la città recepisce il lavoro che noi abbiamo fatto grazie bene ora passiamo al festeggiato perché oggi compie 15 anni il csmt e quindi invito l'amministratore delegato e direttore generale riccardo trichilo a raccontarci questa storia fino ad oggi e a presentarci il futuro grazie di buongiorno a tutti buongiorno che emozione bello essere qua oggi bello se 15 anni sono serviti per fare questo allora sono stati ben spesi bello veramente bello allora riflessione riflessione stiamo vivendo un'era posso togliere un'era di forti transizioni ambientali tecnologiche sociali e queste ci stanno condizionando condizionando molto tant'è che l'elemento che praticamente ci attraversa nella nostra vita quotidiana è proprio la inter dipendenza interrelazione che abbiamo l'uno con l'altro semplicemente con il singolo con la collettività l'azienda con il territorio l'uomo con il pianeta il covid la pandemia ce l'ha stressato tutto questo concetto ce l'ha reso ancora più forte e ne dobbiamo fare tesoro ed è proprio la risoluzione di questa interrelazione uso anche la parola dipendenza proprio per umilmente riflettere su questo è la vera sfida riuscire cioè a superare questo facendola diventare da sfida un'opportunità un'opportunità forte che non dobbiamo e non possiamo perdere i giovani i nostri figli ce lo chiedono non è questione di pnrr grazie è una necessità e come si fa la strada è la sostenibilità ce lo siamo detti la sostenibilità piena la sostenibilità nel senso di planet people prosperity quindi economica ambientale sociale detta in logica di impresa è passare da un capitalismo degli shareholders al capitalismo degli stakeholders si facile dirlo ma come si fa si richiede un approccio nuovo una visione nuova qualcuno dice va bene sono ovviamente superati le logiche vecchie di ragionare per silos verticali quante volte ce lo siamo sentiti dire allora dobbiamo ragionare per filiera no non basta più dobbiamo ragionare per cluster no non basta sistema no non basta più nemmeno sistema è il sistema dei sistemi che dobbiamo affrontare ancora più complicato e complesso il sistema ad esempio sistema produttivo come si rapporta con il sistema della ricerca come si rapporta con il sistema della pubblica amministrazione faccio una similitudine è come prendendo a riferimento il corpo umano il sistema nervoso il sistema muscolo scheletrico gli apparati e gli organi non hanno senso a se stante da soli anche se funzionano la loro scopo è far il benessere dell'uomo insieme funzionano e insieme l'uomo ne ha il beneficio banale no talmente banale che ce lo dimentichiamo e siamo spesso ognuno di noi concentrati sul nostro riferimento sul nostro ego o sulla nostra area di azione e tra l'altro tutto questo che cosa che cosa richiede richiede alla fin fine la capacità di poter quindi gestire quello in modo più completo quello che io chiamo da ormai da tempo ma l'avete sentito dire pensiero sferico uno spensiero globale che copre e abbraccia tutti i vari aspetti che ci circondano quindi e poi praticamente mettono insieme la tecnica con l'etica la produzione con l'arte qui oggi questo è un evento sferico questo è un evento sferico e su questo cosa vuol dire sapersi aggregare e brescia lasciatemi lo dire da toscano che ormai da 16 anni abita qui e so leggere e vedere ha già dimostrato di saperlo fare questa fase di aggregazione di sistema ad esempio l'albero della vita è stato un esempio straordinario ma anche l'idea stessa che brescia ha avuto anni fa di darsi delle realtà particolari nuove inclusive e plurali csmt lasciatemi lo dire in ex ab il centro sviluppo della sostenibilità sono straordinarie ora la missione futura anche questa è una missione bellissima cosa vuol dire brescia è in grado è in grado di darsi queste forme di aggregazione con scopo collettivo e sociale basta metterle a questo punto a frutto il csmt csmt nella sua capacità di fare rete con i suoi partner che ha nel campus universitario l'università il cnr l'enea gli spin off e le start up e poi la stretta collaborazione con aqm straordinaria e anche con le altre capacità di rete con le altre collaborazioni con le rete che facciamo è umilmente un piccolo esempio piccolo nella dimensione spero non nel potenziale di poter fare approccio sferico e poter servire proprio per innescare in se entra in sintonia in fase con fra tutti noi questo processo di rinnovamento questo è possibile per fare questo è un fatto culturale ne siamo consapevoli tant'è che ben sei anni fa csmt con aqm poi con sma e con isfor abbiamo lanciato un master manager per l'eccellenza proprio per formare manager di nuova generazione che avessero questa visione questa capacità di gestire il globale di gestire lo sferico è una complessità assolutamente enorme grande allora qual è quindi il passaggio il passaggio è riuscire a far sì che tutti insieme riusciamo come ha detto emidio in apertura fare insieme innovazione sostenibile il fare non sono certo io dicevo insegnarlo a voi bresciani l'insieme ce lo siamo detti l'approccio sferico un approccio globale un approccio che nuovo finalmente nuovo di aggregazione e l'innovazione a questo punto non serve un'innovazione to cure è inutile avere delle idee se poi scoprire dopo che queste non rispondono ai criteri della sostenibilità e ad esempio hanno un alto footprint un alto impatto ambientale è deleterio tanto vale averle buone alla prima e come si fa averle buone alla prima è complicato certo che è complicato perché bisogna avere le conoscenze la consapevolezza ognuno di noi lo dico da ingegnere perché l'ha fatto per anni animati da buona fede dal buone intenzioni è chiaro che non possiamo avere lo scibile globale nessuno e allora l'unica soluzione qual è aggregarsi e quindi ad esempio mettendosi nei panni ad esempio di un ingegnere che deve progettare una pompa dell'acqua per dire un prodotto qualunque non un prodotto ad esempio come può essere una pala eolica che già la sostenibilità più vicina ma un prodotto quotidiano è chiaro che lo deve fare con approccio nuovo quindi deve sapere certo di materiali di fluidodinamica ma o lo sa lui o c'è accanto qualcuno che gli parla anche che impatto ha la sua decisione sul footprint sull'ambiente quant'è il life cycle assessment di questo prodotto fino a poco tempo fa non sapevamo nemmeno il significato di queste parole non sapevamo significato di overshoot day oggi la consapevolezza grazie a di aumentata ma ci rendiamo conto che siamo solo all'inizio stiamo balbettando di sostenibilità meno male che però c'è almeno quella consapevolezza di doverlo fare di doverlo fare il problema a questo punto è come fare a renderlo stesso come fare a renderlo strutturato e lì ci viene in aiuto il rinascimento perché l'innovazione sostenibile deve essere gestita come fu gestito l'arte gestita l'arte nel cinquecento non fu il frutto del caso ma fu strutturalmente voluta dai signori del tempo creando delle botteghe che erano dei centri di eccellenza di sperimentazione e di formazione strutturata radicati nel territorio che facevano forte il territorio collaboravano fra di loro e formavano il verrocchio e leonardo il gian giacomo caprotti e poi i loro allievi gli allievi che sono andati in giro per il mondo leonardo in francia bernardino luini in svizzera ed altri a venezia giovanni agostino mi ricordo il cesare dei seoi su a napoli comunque quindi discepoli della del nuovo che hanno durato per decenni e tuttora ne stiamo beneficiando ma non erano il frutto del caso allora mutati smutandi se sfruttando la stessa similitudine io dico che oggi l'innovazione sostenibile deve essere voluta strutturata così come fu allora l'arte tramite dei centri che svolgono questa funzione di aggregazione per fare sperimentazione per fare condivisione per fare cultura quindi formazione in modo tale che rimanga strutturato non basta quindi semplicemente dirsi lo voglio fare e sentirsi mettersi lasciatemi dire la coscienza a posto non è non è solo questo non basta a questo punto quindi il concetto di riuscire a passare una volta per tutta sfruttare questo momento e credo che l'italia e lasciatemi dire in particolare brescia ha un vantaggio sicuramente rispetto all'america sicuramente rispetto alla cina lo ha detto questo anche l'ho sentito di reale cross quello lo storico uno storico americano dal lato di origine abruzzesi che è stato assistente di obama prima e di hillary clinton dopo che dice che il vantaggio che proprio all'italia è proprio questo legame forte con il territorio sia a livello culturale storico nel dna sia pensando all'assetto industriale le grandi le medie imprese hanno assunto da 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 generazioni dipendenti hanno fatto asili nido e scuole ma anche le migliaia di piccole aziende in realtà imprese anche a conduzione familiare che sono il tessuto connettivo che rendono forte il legame con il territorio il saper fare la manifattura vuol dire trasformare la materia prima e questo è un'occasione straordinaria proprio di legame con il territorio anche se non hai la materia prima la ricicli anche questa è una forma di legame con il territorio e brescia questo vantaggio ce l'ha e lo può sfruttare appieno un ultimo riferimento ad esempio anche in merito alla nuova tecnologia del metaverso straordinaria intelligenza artificiale bellissimo il potenziale va saputo giustamente sanamente comple diciamo controbilanciare con la con il saper fare con la mano la conoscenza umana avviene attraverso il contatto mente mano non si può dematerializzare la conoscenza sarebbe credo un depauperare l'umanità quindi il sano bilanciamento tra questa tecnologia straordinaria del virtuale che utilizziamo anche noi con i nostri ingegneri tutti i giorni ma sanamente controbilanciata con il saper fare con le mani che hanno creato bellezza che hanno creato emozione e ne abbiamo ancora qui le vestigia questo è il sano bilanciamento che va saputo fare quindi collegamento con il territorio e brescia questo collegamento con il territorio in tutte le sue forme ce l'ha forte è chiaro a questo punto il csmt il csmt in questi 15 anni chiaramente ha avuto dei dei momenti non facili ma oggi oggi è forte forte dei risultati ottenuti ma forte soprattutto della mente e dell'entusiasmo delle persone che lavorano all'interno del csmt sono giovani giovani ingegneri fisici biofisici esperti di intelligenza artificiale di iot esperti di economia circolare di valorizzazione di scorie e di progett funding finanziamento di innovazione strategico ma soprattutto sono esperti nel fare rete sono anni che collaboriamo e lavoriamo con gli altri aggreghiamo sono anni che stiamo facendo palestra di pensiero sferico questa è la dote che portiamo e rendiamo a disposizione di brescia ed è proprio oggi dopo tutti questi anni come se fossero stati anni di palestra per farci ancora più forti ancora più pronti siamo oggi pronti anche con un volto nuovo un'immagine nuova un rebranding nuovo a poter supportare brescia il territorio in questa volontà unita di darsi una strada nuova di darsi un progetto importante un progetto aggregante in modo tale che possiamo dire ai giovani che ci ascoltano ai nostri figli che un mondo migliore un mondo più giusto mondo più sano un mondo tondo non è un'utopia non è un sogno ma è possibile aspetta a noi concepirlo a noi farlo grazie 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 all'ingegnere trichilo e allora invito il professor rodolfo faglia che coordina il comitato tecnico e scientifico del csmt noi ci conosciamo dai tempi in cui avevo le braghette corte all'università ho cominciato a lavorare come ricercatore ho avuto il grande piacere di ritrovarti nel comitato tecnico e scientifico in cui stiamo lavorando con grande intensità per sviluppare il percorso del csmt grazie grazie a te presidente grazie è un onore essere qui a rappresentare diciamo il comitato tecnico scientifico che si adatta si è dato una missione all'interno di csmt che sarà più chiara dopo alcune parole che dico diciamo che spero che siano altrettanto elevate come quelle che ho sentito prima allora io direi che siamo in un periodo di forte evoluzione tutto si sta evolvendo fra l'altro nella nelle presentazioni che ho visto nelle prove di di questa giornata proprio anche il termine evoluzione è già comparso più volte evoluzione che vuol dire avere uno sviluppo e avere una meta e abbiamo testimonianze molto forti di questo tipo di processo che stiamo subendo e che diventa sempre più veloce pensiamo per esempio a una cosa che sta molto a cuore e poi si parlerà anche anche in questi giorni dell'automobile l'automobile perché dico che si parlerà in questi giorni perché si sta pensando un centro di mobilità sostenibile e quindi mi piace fare questo esempio l'automobile cinquant'anni fa era un cinquecento di cinquant'anni fa era un veicolo bellissimo accettabile eccetera ma non confrontabile con la cinquecento di oggi dotata di sensori dotata di apparati elettrici dotata in certi casi anche di collegamenti esterni fa da monitoraggio eccetera quindi un sistema che si è evoluto e l'evoluzione porta però con sé complessità è ovvio che l'automobile di cinquant'anni fa era molto più semplice di quella di adesso adesso la complessità è una parola chiave una parola chiave addirittura abbiamo avuto il premio nobel il professor Parisi che studia la complessità la complessità degli eventi la complessità degli oggetti la complessità di tutto i sistemi stanno diventando complessi l'ha detto prima il presidente il presidente l'amministratore delegato l'ingegnere Tricchilo la complessità però va gestita la complessità va gestita non possiamo dire ok benissimo abbiamo creato un bel sistema però dopo non sappiamo utilizzarlo non sappiamo gestirlo non sappiamo governarlo e allora ecco che per gestire la la complessità come servono più menti più competenze per gestire un sistema complesso anche in questo caso per gestire delle progettualità per gestire dei prodotti per gestire delle iniziative che sono per definizione complesse abbiamo bisogno di un altro spirito di un'altra cosa è la coralità l'agire insieme quindi la complessità può essere gestita solo se non abbiamo delle individualità benché forti il genio benissimo ma dobbiamo essere consapevoli che l'altro ci serve anche lì la bottega artigiana è vero c'era Leonardo c'era Verrocchio però come diceva prima l'ingegnere Trichilo poi c'è stata la diffusione tramite gli allievi e si imparava e si costruiva insieme allora allora perché ho detto tutto questo perché ci siamo dati nel comitato tecnico scientifico di CSMT proprio questa idea di collaborare insieme non soltanto proponendo idee elevate ovviamente idee di visione ma anche cercando di metterle a terra cioè bellissimo riuscire a fare cose alte progetti alo progetti molto forti iniziative forti ma che devono assumere concretezza e quindi il comitato tecnico scientifico di CSMT si è dato il compito di proporre delle visioni delle strategie ma anche di cercare di assumere dei valori tattici come fare a fare qualcosa per mettere a terra questi progetti la composizione del comitato tecnico scientifico peraltro è stata studiata diciamolo così in modo tale che le competenze che ci sono all'interno sono delle più trasversali possibili e i membri all'interno del comitato tecnico scientifico hanno anche altri incarichi ovviamente non solo quelli di comitato tecnico scientifico perché costituiscono un collegamento anche con altre realtà per cui l'impostazione del CTS adesso è coralità condivisione dei progetti e messa a terra cercare di trovare la parte concreta di messa a terra di questi progetti abbiamo soltanto fatto due riunioni per adesso però anche qui l'organizzazione interna è stata studiata in modo tale che i gruppi di lavoro all'interno si sono creati dei gruppi di lavoro dinamici non sempre le stesse persone che si trovano l'uno con l'altro ma ci si intercambia e si fa in modo che le varie tematiche vengono sfrontate diciamo in modo sferico come si diceva prima cioè cercando di considerare tutti gli aspetti tutti gli aspetti non svelo ovviamente quali sono i progetti anzi svelo i progetti su cui si sta lavorando non nel particolari perché ovviamente non sono ancora stati discussi totalmente ma si pensa che a breve si possa riuscire a creare qualche un progetto molto significativo relativamente all'agri-food un progetto significativo sulla mobilità sostenibile e un progetto significativo sul possibilità diciamo di creare delle delle interfacce particolari e interfacce particolari in vari settori del nostro della nostra città e quindi con questo spero di avervi dato delle indicazioni su come ci sia area nuova all'interno del CTS con questo spirito di collaborazione e cercare di rendere concredi quali sono i progetti che verranno fuori che usciranno coralmente dalle nostre varie iniziative che permano la nostra città grazie ringrazio il professor Faglia e ora proseguiamo con la professoressa Michele Pezzagno che rappresenta il centro di sviluppo di sostenibilità stiamo parlando di innovazione sostenibile abbiamo un centro con grande competenza qua a Brescia riferimento per la regione e quindi lascio la parola alla professoressa per aggiornarci sulle linee guida che ci dovranno condurre a questa grande trasformazione della città grazie buongiorno a tutti io sono uno dei membri del comitato operativo di questo centro sviluppo sostenibilità che cos'è prima di tutto allora il centro di sviluppo sostenibilità è un accordo di parternariato quindi è un accordo tra soggetti pubblici privati in modo particolare promosso dall'università degli studi di Brescia e all'interno di questo accordo c'è Camera di commercio Confindustria A2A il comune di Brescia la provincia di Brescia e fondazione CAB è un grande tavolo di confronto prima di tutto qual è la volontà del CSS che è l'acronimo che ci caratterizza è quello di creare una vision una strategia per il territorio sullo sviluppo sostenibile è un esempio unico in Italia e questo è un fatto che ci caratterizza un po' come Bresciani la sperimentazione secondo me cosa stiamo facendo? ebbè prima di tutto stiamo cercando di convergere perché parlare di sostenibilità vuol dire inevitabilmente parlare di conflitti gestire il tema della sostenibilità non è facile soprattutto quando gli si vuole dare un carattere operativo siamo in stato avanzato di costruzione della strategia di sviluppo sostenibile quindi di questa vision per il territorio bresciano e chiederemo agli enti che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato degli impegni concreti degli impegni concreti ovviamente nell'ambito delle proprie competenze ma la vision alza lo sguardo rispetto alla competenza del singolo ente per poter essere una guida per le scelte degli altri attori che partecipano alla trasformazione del territorio e tenere questo sguardo alto è importantissimo perché è quello che ci consentirà di fare che cosa? Beh, di gestire prima di tutto la transizione del territorio perché abbiamo prima la transizione da dover gestire e poi di innovare ma il tema della sostenibilità come lo stiamo affrontando? Allora, il CSS ha un comitato di indirizzo che è composto appunto dai player che vi ho detto prima e un comitato operativo la mano balanza io faccio parte del comitato operativo dove un gruppo di lavoro corposo di ricercatori universitari lavora alla costruzione della strategia insieme e in sinergia con gli altri partner a che punto siamo? Beh, la strategia dovrebbe vedere la luce agli inizi del 2022 da quanto tempo lavoriamo? Ci abbiamo messo un anno la parte più difficile del lavoro è il posizionamento la costruzione dei dati perché per fare una strategia bisogna avere misurarci alla scala adeguata perché le strategie territoriali di sviluppo sostenibile sono sito specifiche prima c'era una bellissima immagine del territorio proposta qui dietro suppongo che fossero le colline senesi beh, vinco facile non ho un sistema industriale parlo bene di sostenibilità se non ho un sistema industriale Brescia non è così e questo è un tema l'altro aspetto è che questo tavolo vede un elemento di raccordo costituito dagli operativi dell'università con il tavolo di indirizzo e quindi si gioca su due livelli una parte operativa di discussione e poi si torna al livello del decisore politico composto appunto dai vari player del comitato di indirizzo e quindi lavoriamo sotto questo aspetto l'altro aspetto su cui stiamo lavorando è il supporto al comune di Brescia alla candidatura di European Green Capital perché se vogliamo guidare la transizione dobbiamo anche supportare gli attori che si vogliono mettere in discussione in questa direzione un altro passaggio è il fatto che abbiamo costruito un tavolo di confronto sulla gestione dei progetti per il PNRR stiamo lavorando in modo stretto con i vari player per andare a individuare i bandi per coinvolgere i vari soggetti idonei perché perché se vogliamo governare la transizione dobbiamo anche metterci in discussione sotto questo aspetto e l'ultimo punto è legato anche alla crescita culturale del territorio perché anche questo è importantissimo e quindi a livello operativo funzioniamo come elemento di raccordo elemento di raccordo tra la ricerca fatta in università la costruzione di una vision e la comunicazione di questa vision con una concretezza di fondo che sarà rappresentata dalla strategia di sviluppo sostenibile che sarà messa a disposizione di tutti gli impegni verranno chiesti agli attori che fanno parte dell'accordo ho finito sono state le cinque minuti grazie mille e ora proseguiamo con i main speaker sono tutti giovani perché parliamo del futuro introduciamo per primo Davide Dattoli che sarà collegato in streaming è una persona che non ha bisogno di presentazioni ha fondato Talent Garden a Brescia nel 2011 la più grande piattaforma fisica in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale che oggi conta 21 campus e 8 paesi è stato nominato da Forbes fra i 30 under 30 più influenti del settore tecnologia oggi vive a Milano vorremmo che tornasse a Brescia è stato precursore a Brescia con l'iniziativa supernova che aveva portato l'innovazione nella città e quindi io lo ringrazio per la sua presenza oggi gli ho chiesto di portare il suo contributo perché il progetto della città dell'innovazione sostenibile va nella direzione di quella che lui aveva già anticipato qualche anno fa grazie Davide a te da di fatto Brescia è stata precursore sul mondo dell'innovazione dal punto di vista dell'imprenditorialità è una città che ha tramite il suo spirito imprenditoriale è diventata leader a livello internazionale con un export che porteranno di qualche settimana fa dei dati incredibili sull'export bresciano ecco oggi la sfida è che la tecnologia in particolare negli ultimi anni sta totalmente cambiando quello che è l'ecosistema di tutte le imprese di tutti i settori e su questo credo che ci siano due temi importanti uno capire come questa tecnologia possa e vada implementata all'interno di tutte le aziende sapendo e ricordandosi che non è mai un tema di tecnologia in sé ma è sempre un tema di persone e proprio su questo noi si parla tanto di ESG e di sostenibilità ma sul tema ESG la seconda parola dopo environment è la S è la parte di società è tutta la parte di persone che sono poi alla base dell'innovazione che sono poi alla base di qualsiasi cambiamento la tecnologia sta totalmente cambiando come funzioniamo sta totalmente modificando come le aziende funzioneranno nei prossimi anni e l'abbiamo visto ancora di più durante il covid su qualsiasi settore industriale l'elettrico lo cambia sul mondo dell'automotive che si citava prima ovviamente cambiando tantissimo sul mondo dei servizi ma non c'è più nessun settore industriale che in qualche modo non sia impattato da tutto ciò ecco allora la sfida è come ci focalizziamo su queste persone come le prepariamo le nuove generazioni da una parte a una sfida del futuro sempre più importante dove l'università sta facendo tantissimo ma dove bisogna fare sempre di più ma dall'altra come facciamo sia anche che l'inclusione sociale sia una delle battaglie da combattere perché il rischio e lo si è visto ancora di più in questo periodo covid è che la disoccupazione si sta creando sulle fasce di popolazione più avanti sugli over 45 che si trovano in qualche modo a metà tra chi prima della pensione può anche non cambiare non vedersi nel mondo dell'innovazione i giovani che in qualche modo più naturalmente ci entrano ma c'è una fascia di popolazione centrale che ne viene impattata per i prossimi decenni ecco allora credo che Brescia debba e possa essere un laboratorio di sperimentazione da questo punto di vista noi stiamo lavorando tantissimo proprio sul tema formativo abbiamo lanciato un master qualche settimana fa su questi temi a livello europeo ormai internazionale lavoriamo tanto abbiamo formato quest'anno più di 20.000 persone sulle nuove professioni digitali e credo che però da Brescia possa e debba partire un movimento che dica innovazione sostenibile e soprattutto la sostenibilità della società delle persone che faranno l'innovazione che costruiranno la città del domani per poterla fare bisogna lavorare su due cose da una parte credo che un po' all'evento di oggi nasca con questo obiettivo capire cosa vuole essere Brescia tra 30 anni non possiamo più pensare di fare programmi a breve termine dobbiamo cercare di capire che cosa Brescia voglia diventare tra 30 anni e da questo punto di vista quale vuole essere la sua specificità non possiamo essere tutto dobbiamo decidere una o più sfide ma comunque molto poche che possano diventare la sfida di quella che vuole essere questa città e dall'altra provare a ricordarci il tema delle persone della formazione dei talenti del reskilling delle persone che già lavorano che hanno bisogno di essere indirizzate a competenze e professionalità diverse da Brescia potrebbe e forse dovrebbe partire proprio questo abbiamo fatto un esempio di che cosa era fare l'imprenditorialità e costruire aziende che da Brescia potevano esportare in tutto il mondo oggi possiamo chiederci come da Brescia possiamo costruire un laboratorio che sperimenta un'innovazione sostenibile molto legata al talento e alle persone che poi l'innovazione ogni giorno lo fanno grazie mille in bocca al lupo grazie a Davide Dattoli procediamo con un'altra Bresciana che porta la Brescianità in Europa Marzia è un'esperta di digitalizzazione dell'ambiente costruito riconosciuta a livello internazionale la sua visione è creare una società sostenibile inclusiva ispirando le nuove generazioni a partecipare a questo obiettivo Marzia è un'ingegnere edile laureata con l'Ode per la sua Università degli Studi di Brescia tra le 50 donne più influenti nella tecnologia in Inghilterra dove vive a Londra e lavora vincitrice del prestigioso premio come donna del futuro per le costruzioni e premiata come alunna dell'anno dell'associazione di alumni dell'Università degli Studi di Brescia invito Marzia Bolpagni a raccontarci un po' della sua esperienza grazie grazie mille grazie dell'invito mi è stato chiesto di rivolgermi soprattutto agli studenti che ci stanno seguendo purtroppo mi occupo della digitalizzazione del settore delle costruzioni e ho vissuto e lavorato in diversi paesi in Italia in Inghilterra in America in Finlandia in Islanda e attualmente il lavoro di cui mi occupo appunto copre 5 hub internazionali quindi lavoro con team su scala internazionale quello appunto su cui voglio mettere l'attenzione oggi è il tema della sostenibilità un tema appunto che è centrale di cui abbiamo parlato oggi è un tema che spesso sembra molto più più grande di noi e soprattutto noi giovani ci domandiamo come possiamo contribuire a questo problema che è molto spesso sempre più più grande spesso appunto si parla di diminuire la temperatura e di cercare di non aumentare più di un grado o due ma questo che cosa vuol dire nel nostro modo di fare giorno per giorno è importante appunto è una questione di sta diventando sempre più il tema della sostenibilità e riguarda tutti noi riguarda il nostro futuro ma anche la nostra sopravvivenza quindi soprattutto noi giovani è importante che ci impegniamo e investiamo nelle tecnologie per appunto contribuire a avere un futuro che sia il modo importante e che ci possa permettere anche come città di Brescia diventare un esempio per appunto questa innovazione io quando ho finito il mio percorso di studi mi è stato detto che le mie competenze erano troppo innovative per quello che il mercato in quel momento poteva poteva darmi spero appunto che con questo centro molti giovani possano utilizzare immediatamente le loro competenze sul territorio ci sono diciamo io appunto mi occupo della digitalizzazione e quello di cui vi volevo parlare sono due aspetti il primo è la questione del talento e il secondo punto è quella della diversità il primo punto che riguarda appunto il talento e le competenze quando io frequentavo il liceo Calini la figura professionale che attualmente svolgo non c'era ancora quindi mi rivolgo a tutti gli istituti superiori che ci stanno ascoltando è importante non focalizzarsi su quello che attualmente sono le figure che attualmente sono presenti perché quello che chiede il mercato è in continua evoluzione come è stato detto prima c'è un bisogno di formazione continua quindi è importante ascoltare i vostri professori eccetera ma anche concentrarvi sulle competenze di oggi che la diciamo i vari enti offrono anche le università del territorio ma essere sempre attivi e appunto essere al passo con le con le diverse richieste a livello informatico tecnologico il tema della sostenibilità non importa tutti noi hanno dei talenti mi è stato di recente ho parlato con un mio cuginetto di 12 anni e gli ho chiesto che cosa vuoi fare quando sarai grande mi ha detto vorrei fare l'influencer diciamo che una figura professionale diciamo che ma influencer di cosa che cosa vuoi influenzare ecco l'importante secondo me è appunto dare ai giovani degli stimoli e capire che siate appunto in una formazione più scientifica meccanica informatica e-commerce in futuro ci saranno delle figure professionali che richiedono delle competenze trasversali e ibride non solo a livello tecnico ma anche di soft skill quindi capacità di comunicare parlare le lingue io attualmente non potrei fare il mio lavoro senza sapere l'inglese in una maniera che mi riesce naturalmente fluido anzi mi riesce più facile attualmente parlare in inglese che parlare con voi in italiano quasi quindi è importante appunto focalizzarsi sulle competenze e sviluppare i vostri talenti ognuno ne ha i diversi i vostri professori i vostri genitori i genitori vi guidano per scoprire questi talenti ma anche parlate con i professionisti anche quelli più più giovani oggi non c'è la possibilità di farlo di persona però entrate in contatto con noi tramite i social media ad esempio chiedete fate domande ma che cosa ti occupi qual è la tua giornata tipo quali sono i vari diciamo skills che appunto servono non solo appunto tecnici come parlavo prima ma anche a livello software di comunicazione team working eccetera quindi la prima parte appunto di cui parlavo del talento e delle competenze è davvero aprite i vostri orizzonti e non focalizzate su quelle che sono le figure professionali tradizionali che sono sicuramente un punto di partenza che continuano a cambiare entrate in contatto con i professionisti fateli delle domande per appunto capire quali sono i nuovi trend e capire come entrare nel mercato e dare il vostro contributo il secondo punto di cui appunto volevo parlare è il tema della diversità quando sono stata invitata mi fa molto piacere essere appunto nella mia città e appunto vedevo i diversi speaker quello che ci accomuna me Davide e che parlerà dopo è il fatto di essere diversi io sono un ingegnere edile ma quello che faccio è diverso dall'ingegnere diciamo tradizionale questo perché il mio invito a voi giovani è di a noi giovani ma voi giovani in particolare che ci state ascoltando oggi è coltivare il modo di essere diversi e spesso in una società dove ci tende ad essere tutti uguali è importante sperimentare in prima persona a me capita spesso di essere l'unica donna tra uomini l'unica straniera l'unica cristiana tra colleghi musulmani eccetera l'unica con i tacchi bassi quando l'altra hanno i tacchi alti eccetera questo questa diversità crea la vostra identità e vi permette di pensare in modo diverso io nel mio lavoro quello che appunto sta facendo Davide edi ci ha permesso di pensare in modo diverso questo è fondamentale per creare appunto un futuro innovativo e sostenibile quindi portare sul tavolo anche se siamo giovani un modo di pensare completamente diverso spesso finiamo gli studi con tanto entusiasmo entriamo nel mondo del lavoro e ci viene detto ma non fare troppe domande non è così si fa così lo faccio da 30 anni è sempre andato bene sempre abbiamo sempre guadagnato come insomma come azienda ecco noi come giovani dobbiamo dire di no dobbiamo portare il nostro contributo e dobbiamo trovare delle diciamo degli ambienti che ci permettono di portare appunto un modo diverso di pensare e diversità e anche parità appunto di genere io vi ho portato qui questo libro che voi non potete vedere però in Inghilterra fin da fin da piccoli si sta spingendo molto a cambiare la percezione non potete leggere ma questo il titolo è my mommy is an engineer perché se noi pensiamo alla figura dell'ingegnere ci viene sempre in mente ma anche a me un uomo che è magari in cantiere eccetera quindi quello che serve è appunto cambiare la percezione perché per affrontare il tema della crisi climatica serve come è stato detto delle competenze delle competenze molto diverse molto diverse e la differenza anche di genere oltre che di età è fondamentale quindi invito voi giovani a chiedere magari alle vostre sorelle alle vostre mamme di impegnarsi su questi temi anche di innovazione sostenibile e anche mi rivolgo a chi è qua alle vostre colleghe di stimolarli in modo che possono dare il loro contributo per chiudere e per stimolare comunque tutti i giovani questo è il momento per portare il vostro contributo e non so se sapete qualcuno di voi lo sa perché mi ha sentito nei giorni scorsi l'età media del team che ha portato il primo uomo sulla luna non so se sapete qual è l'età media non so se qualcuno di voi lo sa però il team che ha compiuto questa impresa aveva tra i 27 e i 28 anni quindi pensate la possibilità di compiere delle azioni completamente straordinarie in un team molto dinamico e giovane quindi se siete giovani questo è il vostro momento per impegnarvi se siete in posizioni più di diciamo senior coinvolgete i giovani perché appunto possono permettere di creare delle opere che sembrano impossibili e credo che questo centro di cui appunto stiamo parlando oggi abbia questo spirito di coinvolgere la maggioranza e con questo punto concludo e vi ringrazio ancora Grazie grazie mille Marzia ha dato un bellissimo messaggio ai giovani che sono collegati e allora proseguiamo con il terzo speaker Edi è un ingegnere aerospaziale focalizzatosi sull'esplorazione umana dello spazio in tal senso ha collaborato con i maggiori centri di ricerche ed agenzie spaziali è stato selezionato come astronauta suborbitale per un progetto di ricerca congiunto sullo studio della mesosfera attualmente ricopre l'incarico di direttore del programma Space Entrepreneurship della European Institute for Innovation and Sustainability è Umbro corretto di origine quindi non è bresciano noi speriamo abbiamo il piacere di averlo oggi a Brescia e speriamo che nel futuro nel nostro processo di muoverci verso l'innovazione sostenibile possa essere qualcuno che ci può aiutare sul nostro territorio Edi Milani prego grazie grazie innanzitutto sì è un piacere essere qui perché anche quando mi hanno detto guarda stiamo facendo un evento e si focalizzerà sull'idea di avere una cittadella innovativa ho detto beh questo è un sogno da bambino che uno può avere un posto in cui tutta l'innovazione può avvenire ed è sicuramente un posto in cui l'eterogenità del background delle persone che ne fanno parte è importantissimo comunque non sono qui per parlare di questo ma soprattutto come prima sono qua per parlare indirizzare il mio discorso ai giovani quindi vedo molti giovani del passato alcuni anche di oggi però mi riferisco ovviamente a quelli che ci stanno ascoltando a casa il tema di oggi si è la New Age of Discovery perfetto rinascimento io quando penso al rinascimento penso a Leonardo da Vinci perché è una figura che fin da piccolo e non lo nascondo mi sono sempre ispirato e mi sono sempre immaginato come lui una persona ribelle a me piace immaginare Leonardo come una persona ribelle perché ha deciso di fare qualsiasi cosa avesse avuto voglia voleva fare l'artista ha fatto l'artista voleva fare l'anatomista ha fatto l'anatomia l'inventore e così via e quindi già immaginatevi io mi immagino così Leonardo che una persona poteva venire andare da lui e gli dicesse guarda Leonardo questa cosa tu non puoi farla adesso io non sono a vezzo della lingua di quel tempo però sono sicuro che avrebbe trovato un metodo molto molto creativo per mandarlo a quel paese ed è quello che di solito cerco di fare anch'io mi definisco un ribelle fin da quando mi ricordo qualsiasi persona mi avesse detto guarda Adi questa è proprio troppo ambiziosa per poterlo fare oppure è meglio se lasci stare eccetera non ho dato ascolto perché innanzitutto ho avuto molta fortuna devo dire nella vita perché sia per il background in generale dei miei genitori che hanno viaggiato tantissimo facciano i ricercatori quindi solo questo il fatto di poter viaggiare confrontarmi con ragazzi di nazionalità diverse mi hanno fatto comprendere che non sto non sono in competition non sono in competizione diciamo così se vogliamo chiamarla in questa maniera con gli allunni ragazzi della mia classe ma sono con quelli che sono negli Stati Uniti in Germania in Russia già questo avere una visione più grande del mondo mi ha fatto pensare va bene allora devo metterci di più e ogni volta trovavo gente sempre migliore di me e mi dicevo va bene allora ancora di più e così via farò una diversificazione nel mio discorso tra il futuro il presente e il passato per il futuro io dico va bene stiamo parlando di rinascimento eccetera eccetera perfetto io personalmente voglio essere Leonardo da Vinci della mia epoca già mi immagino che siamo una specie interplanetaria perché sì vi assicuro dovete sicuramente considerare una cosa un fattore molto importante l'esponenzialità delle tecnologie immaginate solamente pochi anni fa possiamo chiamarlo anche quasi 100 se non sbaglio abbiamo avuto i primi uomini che hanno creato i fratelli War per esempio hanno fatto il primo volo 50 anni dopo eravamo già sulla luna immaginatevi cosa sta succedendo piano piano in maniera così esponenziale sicuramente vi dirò già che nel 2050 avremo già conquistato lo spazio cis lunare quindi lo spazio che sta intorno alla luna l'orbita e poi la possibilità di andare numeri volte sul suolo lunare ma soprattutto ci saranno anche delle mission architecture per poter andare oltre quindi poter andare anche su Marte questo perché? perché alla fine siamo esploratori e per fortuna il settore spazio è un settore che sempre è alla front edge quindi le maggiori tecnologie addirittura vengono da questo settore e tramite technology transfer vengono trasferite in altri come quella della medicina il frittaggio dell'acqua e così via qualsiasi persona in questa sala adesso ognuno di voi all'interno proprio del pocket all'interno del taschino ha sicuramente una tecnologia spaziale perché il gps la miniaturizzazione dei dispositivi e così via e del presente il presente ripeto con tutte le cose di cui mi occupo adesso il fatto che ho deciso di fare questo percorso immaginatevi oltre alle cose che si è detto per esempio avrò la fortuna di essere tra le prime persone a poter mandare un'opera artistica nello spazio e sicuramente la prima a mandarla sulla luna tramite un progetto dell'ESA e un progetto un po' di artisti che si chiama appunto la Moon Gallery quindi immaginatevi le prospettive che ci possono essere e ora parlo un po' del passato perché riferendomi sempre agli studenti che ci stanno seguendo il problema è uno e io lo definisco soprattutto la società e il sistema di educazione fatto è che soprattutto in Italia ma non solo anche altrove molte persone vi diranno cosa fare cosa non fare nella vita possono iniziare anche dalle maestre i maestri i professori loro sono focalizzati su un settore perfetto però non avendo esperienza in tutti gli altri settori non hanno la capacità di potervi dire guarda te sei fatto per questo sei fatto per quell'altro addirittura prima quando ero seduto qui c'era una mamma nel pubblico che mi stava parlando dicendo ok perché la figlia sapeva l'inglese i propri maestri i professori guarda tu dovresti fare il turismo il settore non mi ricordo come si dice in italiano comunque quindi l'importante è riuscire a uscire da questo grid che non so chi ha visto il film Matrix ecco bisogna cercare di uscire da quelle metriche di misura obsolete vecchie e sfortunatamente radicate nel nostro sistema quindi immaginatevi tutti questi ragazzi io addirittura ho un fratellino adesso ho 15 anni chiamo fratellino per carità mi impreccherebbe dietro se dice sì comunque è un ragazzo di 15 anni e lo vedo che ha tantissimi sogni però non trova i mezzi come si trovano questi mezzi come diceva prima anche Marzia adesso è molto più semplice c'è email ci sono diverse pagine eccetera si possono contattare se voi mandaste un'email al shift scientist della James Webb Telescope per esempio che doveva addirittura essere mandato nello spazio oggi rimandato al 24 adesso al 25 molto probabilmente vi risponderà quindi adesso la possibilità di essere connessi è altissima cosa che io a mio tempo non lo avevo io per avere un'informazione andavo in biblioteca a trovarmela ero tra i primi ero gli adopter di un computer e appena ho visto che esisteva qualcosa come internet io Yahoo per esempio Yahoo Answers e Yahoo in generale l'avevo visto per prima volta su una copertina di un libro e pensavo che quel libro avesse tutte le risposte poi ho scoperto che no serve un piccolo dispositivo attaccato al computer che facesse un rumorino strano che mi collegasse alla rete e questo è tantissimo altro ci sono molte cose che potrei parlare non so se ho tempo per tutto però oltre al fatto di poter delineare ok i vostri obiettivi e poter decidere cosa fa per il vostro futuro è molto importante appunto fare esperienze più esperienze fate più potrete capire cosa vi piace e cosa no perché dalla teoria alla pratica è tutta altra cosa e le esperienze sono quelle che vi danno emozioni quando vi danno emozioni sapete che il vostro il vostro motivo lo trovate e andrete avanti ma un'altra cosa molto molto importante è quella di ok perfetto sognare però serve anche la pratica serve avere il know how serve avere le skills per poterle fare questo come si fa ci sono tantissimi modi la prima cosa è iniziare con pratiche piccole con cambiare i propri habits le abitudini giornaliere partire veramente dal piccolo uno dei problemi di molte persone quando decidono di avere un cambiamento nella propria vita è quello di partire veramente in grande ok da domani io cambio quella persona non cambierà mai perché si cambia con piccoli passi iniziate a rifarvi il letto ogni giorno iniziate a fare delle piccole task giornaliere ma fatele bene e ogni volta diventate migliori se prima ci mettevate due minuti a fare una determinata task perfetto riuscirete sempre a fare la stessa cosa vi sembrerà un po' monotona però vi assicuro che nel lungo andare diventerete i migliori in quella task un'altra cosa addirittura ancora forse più importante è riuscire a gestire il proprio tempo adesso io ho 28 anni e quando parlo con le altre persone mi chiedono ok come sei riuscito a fare tutte queste cose in questo periodo io rispondo guardate in realtà è abbastanza normale io non mi sono impegnato tantissimo fatto sta che tutti i giorni noi sprechiamo un'enormità di tempo ho avuto la fortuna di accorgermi molto presto e riuscire a marginare tutti quegli sprechi che ci potrebbero essere addirittura come si può fare questo perfetto riuscire a avere determinate ore per qualsiasi cosa e una cosa per raggiungere anche la perfezione è quella di togliere tutte le cose che non vi sono utili e queste possono essere sia le relazioni sociali avete degli amici che non aggiungono niente a voi perfetto toglieteli avete persone che possono essere tossiche per il vostro futuro assolutamente guardate dovrete essere il centro della vostra vita e andare avanti ma considerando anche tutto questo la cosa importante è anche il QI emotivo l'importante è che aiutare anche gli altri è importantissimo io per esempio una cosa che mi ha aiutato tantissimo è riuscire anche a comprendere le altre persone è il fatto di dedicare molto del mio tempo agli altri facendo questo mi rendo una persona molto più comprensiva rispetto alle tematiche che possono essere di tutti i giorni e oh sto finendo un po' il tempo va bene chiudo quasi tutto la cosa molto importante anche alla fine per quanto riguarda il tema di sostenibilità e tutto quanto io la definisco un po' così un po' più romanzesca se vogliamo pensarla quando riusciremo a capire che la bellezza di vedere un istante nell'istante in cui nasce una stella quella nebulosa e la bellezza di vedere nascere un fiore e riusciamo a distinguere che ok queste due sono la stessa cosa sono lo stesso livello di importanza nel nostro universo allora lì capiremo cosa significa veramente la sostenibilità perché ok che è tutto circolare perfetto ma la concezione di una società circolare arriva quando l'uomo non è più center ma è veramente parte di un tutt'uno e questo credo che ho anche un po' sforato chiedo scusa e grazie per avermi ascoltato grazie 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 ed i milani un intervento che ha dato grande ispirazione speriamo soprattutto ai nostri giovani ai giovani di una volta e direi che possiamo procedere ora all'evento clou al momento della presentazione di quella che è la proposta per Brescia per la Brescia del domani per una nuova identità un'identità in cui riconoscerci nella nostra città presentiamo il progetto cittadella dell'innovazione sostenibile al di fuori dei nostri confini esiste un territorio ignoto ma oltre il confine esistono possibilità inesplorate una rete di connessioni e collaborazioni una rete per fare sistema che ci rende competitivi e innovativi di fronte ai forti cambiamenti tecnologici ambientali e sociali in questa rete grazie alle opportunità offerte dal PNRR il territorio bresciano ha deciso di unirsi per sviluppare un progetto unico e ambizioso la cittadella dell'innovazione sostenibile un polo di rigenerazione urbana fondato su un approccio globale che amiamo chiamare pensiero sferico una cittadella per tutto il territorio dove generare nuove connessioni tra impresa e ricerca tra produzione e cultura tra aziende consolidate e giovani start-up tra università e sistemi scolastici di ogni grado realizzata all'interno di un'area industriale dismessa la cittadella diventa simbolo di un'innovazione sostenibile che rigenera un terreno sfruttato e poi abbandonato valorizzando allo stesso tempo il territorio urbano circostante aree di co-working alloggi per giovani e personale di azienda creeranno un polo attrattivo per aziende digitali e start-up dove far circolare idee innovative e occasioni lavorative per gli studenti usciti dal ciclo di studi grazie a laboratori di tecnologia digitale di elettrochimica di materiali innovativi e di nanotecnologie aiuteremo le PMI sul territorio a fare ricerca applicata le risorse hardware e software del centro di calcolo a loro disposizione consentiranno l'accesso alla simulazione di caratteristiche di prodotto e di processo spesso precluso per costi e competenze la sinergia con Cineca e i laboratori universitari creerà un centro elaborativo di modellazione matematica e concentrazione di contenuti didattici per tutte le scuole del territorio in una rete educativa virtuosa senza precedenti saranno presenti anche atelier di pittura ed arte un teatro bar e servizi un luogo contaminato dalle forme espressive dell'arte e della cultura una community con servizi per il territorio attraversata dall'energia dei giovani una cittadella aperta 24 ore al giorno sette giorni su sette per favorire un flusso ininterrotto di contaminazione delle idee la cittadella si prefigge l'alto e straordinario obiettivo di innescare e diffondere un nuovo modello di sviluppo un nuovo rinascimento per far rifiorire la nostra capacità di inventare per far diventare Brescia città della cultura e dell'innovazione sostenibile grazie cominciamo e buongiorno a tutti io sono giovane del passato grazie e volevo partire il mio compito è quello di di andare un po' a sfrucugliare nel mondo dei sogni poi lascio a Riccardo la facoltà di portarvi altrove ma quello che a me preme è riportare la vostra attenzione sull'ultima frase del filmato c'è una parola together che è una parola che a qualcuno dovrebbe far tornare alla memoria un'esperienza che abbiamo compiuto sei anni fa si chiamava Expo 2015 e lo slogan del sistema Brescia per Expo 2015 era together insieme tutti questo è un aspetto non trascurabile perché insieme tutti vuol dire non lasciare fuori nessuno vuol dire tener conto di tutte le esperienze che sono già state fatte e pensare ad esperienze che potranno venire insieme a coloro che le stanno vivendo studiando facendo nessuno resta tagliato fuori da un sistema che prevede la partecipazione corale di tutto il sistema bresciano perché questa sfida cambia il volto della nostra città e del nostro territorio non può quindi prescindere dal fatto che ognuno dovrà portare il proprio contributo abbiamo progetti fantastici già in atto e questi progetti saranno il fattor comune saranno l'ispirazione di un altro progetto ancora più grande che li vuole raccogliere tutti non ci sono esclusive in questo progetto ci sono solo opportunità e la parola opportunità vuol dire attraversare una porta andare oltre questo secondo me è un altro aspetto fondamentale attraversare una porta andare oltre andare dove e qui riporto un'altra suggestione di quegli anni vi vi voglio fare fare un viaggio un viaggio che è legato a una frase ix sunt leones i romani si dice la usassero per indicare i territori dell'africa non ancora conosciuti fuori dal controllo dell'impero dove c'erano leoni l'ignoto l'orizzonte l'orizzonte oltre il quale non so cosa mi aspetterà qualcosa che non c'era e che forse potrà essere scoperto grazie all'intraprendenza di tutti non è solo terrore e ansia del non conoscere e anche voglia di scoprire c'è un altro aspetto di questa frase che è stato usato da Umberto Eco nel nome della rosa quando all'interno della biblioteca nel Finis Afrique George de Bourges dice a Guglielmo di Baskerville ix sunt leones vuol dire andare dove non è permesso dove non è possibile e mi vengono in mente le frasi dette poco fa perché anch'io quando sento un non è possibile mi accendo e torno ai miei 15 anni e torno alle esperienze che ho fatto quando da giovane studente di un istituto tecnico pensavo alla filosofia che poi è diventata uno degli aspetti più importanti della mia vita e all'ITIS per chi conosce il sistema scolastico bresciano sa cosa intendo parlare di filosofia e portare come prima materia l'esame di maturità lettere con Dino Buzzati come autore non era una cosa da tutti sicuramente non da un perito industriale e questa paura di portare qualcosa di nuovo che ci attraversa e fare qualcosa che non è permesso vuol dire essere resistenti al cambiamento o meglio non fare essere resistenti al cambiamento essere resistenti al cambiamento diventa un enorme problema perché tutti noi nel nostro piccolo tendiamo ad essere resistenti al cambiamento nel momento in cui ci troviamo di fronte la scritta iksunt leones ci sono i leoni non ci posso andare non ho le risorse non ho i finanziamenti non ho le persone non ho le competenze quante volte da imprenditori ci siamo detti queste cose e quante volte da imprenditori siamo stati capaci di andare oltre quel confine e andare avanti ed è questo quello che dovremmo fare adesso e c'è un'altra parola che voglio portarvi all'interno di questo viaggio rigenerare si parla di rigenerazione ma rigenerare nel suo significato vuol dire riportare alla dignità che era presente prima allora se parliamo di aree dismesse e Brescia ne ha un'infinità e c'è un bellissimo progetto che si chiama Campus che va in quella direzione queste aree ci chiamano ci implorano di essere riportate alla loro dignità e noi non possiamo sottrarci ecco perché il progetto della cittadella vuole entrare in un'area dismessa tra le tante che abbiamo che dovrà essere individuata non sta a me decidere quale e riportarla la sua dignità riportarla a poter dare lei stessa un contributo alla crescita della nostra città e quando parliamo di città mi piace dire una frase che ho letto in un libro che recentemente mi ha regalato un amico che è un libro di Don Fabio Corazzina e c'è un'espressione di città che a me piace tantissimo ve la leggo una città una città non si misura dalla sua lunghezza o dalla sua larghezza ma dall'ampiezza della sua visione e dall'altezza dei suoi sogni ecco Ixunt Leones diventa il sogno di questa città perché noi siamo leoni siamo i figli della Leonessa quindi Ixunt Leones non è più un qualcosa di sconosciuto ci siamo noi ci sono le nostre competenze la nostra voglia di fare la nostra voglia di stare insieme di superare i limiti che vengono dati dal nostro egoismo per certi versi dalla nostra età e anche dalla nostra incapacità a volte di guardare oltre e allora abbiamo una visione che va oltre e insieme l'abbiamo sognata ora dobbiamo costruirla Together for Future grazie Bello Giancarlo Prima abbiamo parlato appunto di pensiero sferico abbiamo parlato di visione abbiamo parlato quindi dell'approccio di mettere insieme diversi sistemi il sistema della produzione il sistema della ricerca il sistema della pubblica amministrazione che l'abbiamo fatto la similitudine con il corpo umano il sistema il sistema nervoso il sistema scheletro muscolare e i vari organi bene a questo punto esce l'animo esce l'ingegnere l'ingegnere che dice a questo punto abbiamo avuto questa questa visione abbiamo siamo diciamo siamo riusciti a volare alto ora dobbiamo trovare la soluzione applicarla e farla allora che cosa facciamo facciamo delle cose che non abbiamo lasciatemi dire da ingegnere dico ad esempio Brescia ha tante virtù ma ad esempio possibilità strumenti ad esempio non ha un laboratorio elettrochimico così importante da poter realizzare ad esempio seguire la transizione energetica supportare specialmente le piccole aziende a testare non so idrogeno metano green le batterie dobbiamo farla non abbiamo abbiamo start up che vogliono crescere e nascere ma abbiamo praticamente il csmt è sacro quindi dovete trovare tra l'altro nuovi spazi dobbiamo riuscire ad esempio ad avere anche dei laboratori dove le piccole aziende specialmente a loro diciamo dobbiamo rivolgerci si possono diciamo possono trovare dove poter fare dalle prove dove poter testare ad esempio il digitale dove poter testare dei nuovi materiali le nanotecnologie bene queste cose mancano dovremmo farle l'approccio tradizionale sarebbe ad esempio i laboratori si facciano presso l'università o i centri di ricerca o le start up vadano ad esempio in ambienti da appunto incubatori csmt o altri quindi l'approccio tradizionale è dislocare là dove sono seguendo quello che avevo detto all'inizio dei silos che rimarrebbero io dico lasciatemelo dire dei bellissimi silos a sé stanti c'è bisogno invece secondo noi di un approccio trasversale che metta in comunicazione tutto questo e quale occasione migliore se fisicamente le metti insieme e ti costa uguale anzi meno almeno anche in costi di struttura mettere insieme nello stesso ambiente laboratori ambienti per ricevere le start up ad esempio una cinquantina di alloggi un centro di calcolo potente come si fa a seguire la transizione tutto il concetto che dicevamo della virtuale tutto se non ho la possibilità e poi lo rendo fruibile a tutti il centro di calcolo è fruibile a tutti trasversale alle scuole e ti collega a livello anche regionale si collega con il maid si collega con Cineca quindi facciamo rete come lo facevano le botteghe nel cinquecento non lo facciamo noi oggi e come lo puoi fare allora io dico abbiamo l'idea abbiamo la necessità di farlo sì dobbiamo avere il sogno di riuscire a renderlo concreto a concepirlo questo sogno uno dice poi la difficoltà sono trovare finanziamenti ma intanto certo dobbiamo tutti uniti dirci sì abbiamo bisogno di quello quello è il progetto strategico vogliamo perseguire quello e con forza andare poi a cercare trovare il modo di farcelo finanziare ma se non siamo convinti noi su questo com'è possibile che poi troviamo i fondi intanto quindi è necessario convincerci della necessità fondamentale che queste realtà queste facilities dico un laboratorio dico un centro di calcolo perché il teatro il teatro i giovani allenano le loro soft skills non soltanto le hard diciamo poi la contaminazione la contaminazione di produzione e arte quindi tutto questo messo in uno stesso ambiente vi rendete conto della potenzialità enorme che avrebbe in una stessa ambiente centinaia di giovani come quelli che avete sentito prima mi hanno fatto sentire giurassico mi hanno fatto venire la pelle d'oca tutti quelli li mettete insieme ma vi rendete conto è un ciclotrone quello di energia e di idee perché non possiamo farlo questo vogliamo fare ci sono le condizioni se non lo fa Brescia chi lo deve fare la Toscana è stata bella cinquecent'anni fa oggi queste cose non le sogna nemmeno c'è mio fratello che vive lì mi dice tu mi parli di cose che io nemmeno ed è questo a Brescia tocca quindi a questa opportunità ma anche questa responsabilità perché lo può fare e questo è un sogno fattibile che poi innesca un processo straordinario ho usato non a caso il concetto proprio del circotrone proprio accelera le idee le mette a fattore comune e diventa a questo punto un elemento portante per poter innescare il nostro futuro grazie grazie ed ora che è stato presentato il progetto della cittadina di innovazione sostenibile vogliamo procedere con il nostro format innovativo e sfidante cominciamo a sfidarci con delle cose complicate chiederemo di intervenire alle istituzioni e alle associazioni di categoria e gli istituti bancari presenti per dare un contributo in 180 secondi in questo modello di TEDx alla Bresciana e quindi partiamo con Roberto Saccone Presidente della Camera di Commercio e Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia grazie 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 buongiorno a tutti mi scuso per avere sovvertito l'ordine degli interventi ma ho un impegno istituzionale a Milano e devo scappare grazie per l'invito che mi dà la possibilità di esprimere la mia opinione su questo progetto cercherò di stare nei tempi assegnati come è stato detto da chi mi ha preceduto viviamo tempi complessi tempi di grandi cambiamenti culturali che comportano cambiamenti negli stili di vita negli stili di consumo ci apprestiamo ad una transizione tecnologica che cambierà il modo di pensare il modo di vivere il modo di produrre delle aziende quindi è un periodo difficile probabilmente per molte filiere per molti settori dell'economia è vero che darà anche grandi opportunità ma sarà certamente un passaggio epocale non facile in questo scenario il compito degli imprenditori è di mettere in campo come sempre visione, grande determinazione soprattutto grande coraggio credo che sarà la dote che dovremo esprimere in modo più consistente e concreto alle istituzioni compete viceversa il ruolo di interpretare questi bisogni di capire questi bisogni di anticiparli se possibile e mettere in atto quelle iniziative quegli strumenti che possono essere di supporto al sistema economico perché questa transizione tecnologica possa essere effettivamente un'opportunità e possa consentire a questo territorio di continuare nel suo cammino di progresso di sviluppo che i nostri padri ci hanno assicurato con tanto impegno e con tanta laboriosità per questa ragione io credo che questo sia uno importante strumento tra di quelli a cui accennavo prima e quindi vedo con assoluto favore l'iniziativa di una cittadella dell'innovazione sostenibile è un progetto importante innovativo secondo me ha tre caratteristiche importanti che vanno sottolineate da un lato appunto è innovativo è distintivo e quindi è in grado di caratterizzare Brescia e di caratterizzarla e quindi di renderla visibile e quando si è più visibili siano anche più attrattivi e perché no dare a Brescia un ruolo importante e anche appunto di attrattività per quello che potrà esprimere anche in termini di qualità di qualità della vita della vita sociale è un progetto inclusivo l'abbiamo detto a più riprese il tema di fare sistema è entrato negli interventi di tutti coloro che mi hanno preceduto non posso non essere d'accordo sul tema fare sistema e mettere a fattore comune le tante energie che caratterizzano questo territorio è essenziale e l'ultima cosa che secondo me è importante è che il CSMT mette al centro auspico che lo faccia con grande determinazione come primo mattone di questa cittadella il tema dell'attrazione delle competenze del trasferimento tecnologico questo è veramente il tema che farà la differenza le imprese bresciane hanno bisogno di attrarre competenze di avere una relazione importante con il mondo della formazione del mondo della ricerca il CSMT può essere la cerniera che appunto unisce questi mondi con con il mondo della dell'industria dell'impresa più in generale quindi la Camera di Commercio sarà al fianco di questo progetto portando il contributo anche delle sue iniziative fatemi dire a partire da Futura Expo che sarà la grande vetrina che nel 22 darà possibilità alle imprese e alle istituzioni di parlare e che sarà il megafono dell'innovazione sostenibile di Brescia mi hanno detto che io devo piombare qua quando suona il gong quindi tu hai potuto usufruire di essere stato il primo proseguiamo quindi con il presidente della provincia di Brescia Samuele Algisi vediamo nei 180 secondi come se la cava grazie un ringraziamento per poter avermi dato la possibilità di intervenire e di intervenire qua oggi effettivamente l'ipotesi di fare di questa cittadella dell'innovazione è importantissima Brescia credo che abbia un'opportunità incredibile è un territorio che ha la possibilità di esprimere l'opportunità di coniugare una grande passata industriale con l'esigenza di cambiare metodo cambiare perché ovviamente quando si parla di sviluppo e sostenibilità il centro sviluppo e sostenibilità voluto dalla provincia dal comune di Brescia dalle altre istituzioni che ne partecipano ha un concetto di fondo sviluppo e sostenibilità vuol dire essere in grado di governare i processi attraverso la trasformazione non eliminare i processi in virtù di un ipotetico sviluppo soltanto ecologico ma governarli per renderli possibili all'interno di un ecosistema che non è soltanto quello delle idee ma anche quello che ci circonda tutti quanti il fatto di poter inserire a Brescia questo elemento è fondamentale noi abbiamo una provincia che è vastissima che è fortemente industrializzata arriva da un passato di grande capacità industriale e anche innovazione oggi si trova di fronte alla sfida di doversi ulteriormente innovare e per poterlo fare deve ricorrere a tutte le incontaminazioni politiche Olivetti aveva nelle proprie aziende non soltanto gli ingegneri ma anche gli umanisti perché li teneva un elemento di innovazione e di stimolo il fatto che ci si possa contaminare come prima dicevano i ragazzi dico ragazzi perché sono ragazzi di una volta quindi i ragazzi è fondamentale bisogna avere la capacità di innovarsi di contaminarsi di mettere a fattore comune anche così l'immaginazione che l'arte ci può dare ma dall'altra parte dobbiamo avere la capacità ingegneristica di poter a un certo punto prevedere come queste cose possono essere messe a terra ecco la Brescianità secondo me ha questa caratteristica e questa capacità e quindi all'interno di questo io credo che ci giocheremo una grande sfida citavi prima Matrix se non sorriderai tanto e avrai voglia di andare a vederti una serie televisiva un po' più vecchia spazio 1999 non l'ha mai vista tu sono sicuro io me la sto riguardando in questi giorni vedrai delle cose molto particolari interessanti di come uno si immaginava un futuro molto prossimo che non è arrivato con quella prossimità ma sul quale oggi ci stiamo affacciando credo che la possibilità di poter mettere a terra quello che è l'immaginazione con un processo innovativo continuo di sviluppo di ingegnerizzazione appunto dei processi sarà la sfida del futuro che ci viderà verso qualcosa che oggi ancora non immaginiamo completamente l'immaginazione va avanti quello che ne segue è la volontà di tutti con le competenze di ciascuno e questo credo che sarà una grande sfida per tutti grazie complimenti grazie grazie vediamo chi fa il record invito Emilio del Bono sindaco di Brescia a farci lo spot per la cittadella dell'innovazione sostenibile buongiorno non ho capito se devo essere più veloce per prendere l'applauso però arrivo al dunque io penso che Brescia sia già proiettata verso il futuro e questa è l'occasione per dirlo anzi per consolidarlo è proiettata nel futuro perché ormai Brescia ha già deciso che non svilupperà più consumando suolo ha già deciso che rigenerà il patrimonio edilizio esistente e andrà a recuperare aree dismesse caserme ed industrie ha già deciso di essere abbracciata da un'area verde che va dal parco delle colline al parco delle cave fino al parco agricolo di San Polo e verso ovest verso l'Oltremella dal parco del Mella e come l'ha fatto e arrivo al dunque e l'ha fatto attraverso la pianificazione quindi per me è molto importante avere un metodo noi abbiamo adottato dei documenti di pianificazione che si chiamano piano di governo del territorio che si chiamano piano urbano della mobilità sostenibile che si chiamano PAESC che è un documento di pianificazione che permette alla città di attrezzarsi in vista del cambiamento climatico e cosa ha fatto dopo la pianificazione si è andata a cercare i soldi per fare calare la pianificazione nella progettazione e poi nella realizzazione pochi hanno scritto ma colgo l'occasione quindi faccio anche uno spot positivo che il comune di Brescia ha recuperato negli ultimi due anni e mezzo 600 milioni di euro di finanziamenti 600 milioni di euro di finanziamenti facendo che cosa? andando a vincere i bandi andando a bussare alle porte giuste che sono i ministeri che sono le sedi degli enti sovraordinati dall'Europa fino ad arrivare alla nostra regione e grazie a quelle risorse noi abbiamo immaginato una mobilità nuova da quella ciclabile a quella pubblica abbiamo portato a casa un super finanziamento per il tram di superficie abbiamo immaginato una nuova qualità dell'abitare abbiamo vinto due bandi pinqua cioè stiamo pensando ripensando due pezzi di città a ovest e a est e abbiamo anche portato a casa bandi sulla rigenerazione urbana e così via perché vi ho fatto questa considerazione? è avveneristico pensare che un'area dismessa della nostra città industriale immagino ex industriale e ne abbiamo quindi non ci accapiglieremo sul dove bisognerà semplicemente immaginare dove è immaginifico pensare di andare a cercare risorse attraverso bandi e attraverso fondi anche disponibili ad accettare questa scommessa? Io credo di no se il sistema Brescia sta unito e se rema tutta nella stessa direzione perché se entra in una fase competitiva noi non siamo in grado di arrivare a questo risultato il Comune di Brescia per dirla chiara è interessatissimo alla realizzazione di questo grande spazio che è uno spazio che dà una risposta a delle domande a cui non abbiamo ancora dato delle risposte adeguate con gli altri progetti quindi noi ci siamo noi siamo qui per dirvi ok perfetto grazie 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 procediamo quindi con invito a salire Maurizio Tira Rettore dell'Università degli Studi di Brescia grazie microfono grazie grazie e buona giornata a tutti e a tutti noi siamo qui per celebrare una festa a 15 anni quindi ringrazio il presidente il CDA e il comitato scientifico del CSMT una festa di un'impresa che è nata 15 anni fa ed è scaturiva da un progetto per la città di Brescia dell'inizio degli anni 2000 non dimentichiamolo già allora il sistema si era messo insieme aveva delineato alcune proposte tra cui il CSMT un'impresa che era basata sull'esistenza dell'Università degli Studi che è una realtà dove ci sono 1.100 persone che ogni giorno fanno ricerca e formazione in un campus dell'innovazione dove girano migliaia di giovani un'università che mette oggi a disposizione meglio da 15 anni lo spazio affinché il CSMT possa vivere il CSMT è stato voluto per il trasferimento tecnologico come diceva il presidente della camera di commercio ma questo è un obiettivo che ci sta davanti se leggete un articolo sul Corriere Brescia del 3 novembre leggete che nella Startup di Milano 13 Startup hanno vinto tutti i milanesi 0 Bresciane perché noi non valorizziamo i prodotti della ricerca abbiamo davanti delle sfide la prima il PNRR noi stiamo per partecipare al primo bando che prevede due centri nazionali mobilità sostenibile e biofarma lavoriamo su questi bandi come diceva il sindaco bisogna trovare le risorse quando ci sono i bandi facciamo sistema su questo e mi permetto di concludere con la proposta di tre vaccinazioni fate prima quella contro il covid se non avete ancora fatto naturalmente poi altri tre vaccini un vaccino contro il provincialismo noi a Brescia ci tarpiamo da soli le ali perché soffriamo della competizione di Milano e questo lo dobbiamo superare altrimenti non realizzeremo nessun altro progetto dobbiamo fare sì che la Lombardia sia riconosciuta come un sesto d'Italia e non un ventunesimo delle regioni italiane dobbiamo lottare contro la frammentazione e vaccinarci quando il presidente Mattarella è venuto a Brescia a inaugurare l'anno accademico dell'università ha detto e ha sposato il nostro slogan nel futuro insieme poi l'ha ripetuto anche qui davanti alla vittoria alata nel futuro insieme però ci è stato provato tante volte con gli stati generali inizio del 2000 con Brescia più qualche anno fa adesso bisogna che lavoriamo andando concretamente a fare passi in cui le sinergie si misurino quando dobbiamo portare a casa le risorse un terzo vaccino che mi è anche l'occasione per farvi gli auguri vacciniamoci contro il messianesimo l'unico messia per i cristiani e quello di cui ricorrerà la nascita sabato prossimo e con questo vi auguro buon Natale grazie grazie al Rettore procediamo con invito Franco Gustalli Beretta presidente di Confindustria Brescia grazie buongiorno voglio iniziare anch'io con gli auguri al CSMT io conosco il CSMT praticamente dalla sua nascita e ho avuto modo di valutarlo prima come imprenditore e poi come rappresentante di Confindustria Brescia e quindi voglio ringraziare questa iniziativa che è stata intrapresa ormai 15 anni fa perché può portare veramente delle grandi soluzioni al territorio bresciano come imprenditore sono tipicamente considerato metalmeccanico però è grazie al CSMT che abbiamo portato in azienda le tecnologie digitali e quindi questo è un dato di fatto che Brescia è stata capace fin dall'inizio degli anni 2000 a portare e a vedere dove andava il futuro oggi siamo qui a celebrare questo anniversario e a programmare di nuovo il futuro del nostro territorio per esperienza vissuta la collaborazione tra industria e università è fondamentale nel mio caso ha già dato grandi risultati e posso dire che oggi come Presidente di Confindustria Brescia in tantissimi all'interno di Confindustria Brescia come imprenditori crediamo che questa congiunzione di sforzi sia la via giusta per il futuro se no la transizione ecologica la transizione digitale che tutti ne parliamo non riusciremo a farla un'idea di un qualcosa di più del CSMT ma sempre con lo spirito di far lavorare il tessuto economico e non chiamo più solo il tessuto industriale che rappresento ma so che anche la parte dell'agricoltura e altre entità del sistema economico bresciano hanno bisogno di innovazione e quindi dobbiamo assolutamente come è stato più volte detto fare il sistema questa idea può essere veramente la soluzione non sarà facile realizzarla però penso che sia la strada giusta per intraprendere sfide che il tessuto bresciano dovrà fare come quella del cambiamento della mobilità noi dobbiamo portare con iniziative come queste più know-how nel territorio bresciano per fare una vera trasformazione sostenibile e ho finito la trasformazione sostenibile nel senso che dobbiamo partire dalla neutralità tecnologica e lì è solo l'industria e l'università che possono trovare la soluzione grazie a tutti grazie invito ora Pierluigi Cordua presidente di Appindustria Brescia a portare il suo contributo grazie e buongiorno a tutti allora quello che porto io un po' è un'analisi e il punto di vista dell'impresa si parlava prima di rinascimento che è di fatto un'età di cambiamento di cambiamento radicale che si è come dire sviluppata attraverso l'umanesimo la sostenibilità sarà l'umanesimo per le nostre imprese forse sì speriamo di sì ci sono stati diversi cambiamenti diverse rivoluzioni industriali quella che però assistiamo in questo momento è un qualche cosa a nostro parere diverso si parlava ci sono diversi punti di gravità per le nostre aziende per le nostre imprese il primo lo sappiamo è il prodotto e poi il baricentro si è spostato verso le persone citavamo prima per esempio Adriano Livetti che ha cominciato a considerare la fabbrica non più come un qualcosa che doveva fare profitto ma viceversa come un qualcosa che deve aprirsi deve distribuire ricchezza cultura servizi e democrazia c'è stata un'evoluzione forte del contesto economico che ha pesato sulle nostre imprese c'è stata inizialmente lo sappiamo tutti la globalizzazione una grande panacea per il mercato una grande opportunità due anni fa il covid un problema globale e quindi le risposte cambiano c'è una percezione da parte degli imprenditori diversa seguivo per esempio durante un intervento propedeutico a Futura un filosofo mi sono chiesto perché si parla di filosofia per affrontare problemi di sostenibilità perché diceva che la percezione del limite è cambiata mentre prima c'era un problema c'era un incendio in Sicilia un'esondazione in Calabria pensavamo che fosse un problema solo italiano adesso cominciamo a capire che il problema non è più regionale ma è globale è cambiato completamente questo impatta sulla consapevolezza che hanno i nostri imprenditori le nostre imprese quindi anche le PMI cominciano a capire che quando fanno qualcosa questo qualcosa non è confinato ma ha degli effetti che si concatenano e sono quindi molto importanti aggiungo quindi un altro concetto che secondo me è basilare e che si come dire concatena con quello che dovrebbe fare la cittadella dell'innovazione sostenibile è il concetto di compressione cosa significa? tanti temi tante problematiche da risolvere in un orizzonte temporale troppo ristretto soprattutto per la reattività di tutte quelle imprese che banalmente sono hanno meno di 50 dipendenti quindi meno strutturata quindi noi auspichiamo che la cittadella dell'innovazione sia un fantastico contenitore inclusivo trasversale dove come dicevo prima ci possano essere tante innovazioni proprio per anche le nostre aziende del territorio grazie 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 ora avremo un video messaggio perché Ettore Prandini Bresciano che rappresenta la Presidente Nazionale dei Coldiretti non è potuto essere in presenza ma ha voluto mandare un messaggio e il suo commento alla proposta relativa alla cittadella dell'innovazione sostenibile vediamo se l'audio questa volta ci sostiene la cittadella dell'innovazione sostenibile è una grande opportunità per Brescia ma per il sistema produttivo Bresciano noi dobbiamo creare le condizioni mai come in questo momento di fare rete e sistema e fare interloquire mondi che in passato non parlavano fra di loro e invece mettere a sistema quelle che sono le conoscenze creerà le condizioni perché Brescia possa uscire dal cucio nel quale è stata fino ad oggi noi dobbiamo rappresentare il meglio di Brescia e dei Bresciani i Bresciani come imprenditori nella loro genialità nella loro creazione di valore e far sì che i sistemi produttivi possano beneficiare anche delle risorse di carattere economico che oggi vengono stanziate a livello nazionale sarebbe un'occasione persa per la nostra provincia se non riuscissimo a cercare di concretizzare in progetti innovativi e soprattutto di visione strategica ciò che noi potremmo ottenere non solo nell'utilizzo delle risorse economiche ma per guidare i processi produttivi dei prossimi anni la sostenibilità sicuramente sarà centrale ma come in tutti i processi di carattere economico la sostenibilità deve essere graduale quindi noi dobbiamo accompagnare le nostre imprese tutto ciò che verrà imposto in termini di velocizzazione e estrema rischia di generare solo delle distonia e delle perdite di posti di lavoro o di valore economico stesso prodotto all'interno dal nostro territorio l'agricoltura l'agroalimentare questa partita la vuole giocare fino in fondo nell'utilizzo del processo dei dati nel creare le condizioni per le quali dalla digitalizzazione all'agricoltura di precisione allo sviluppo delle energie rinnovabili partendo da un presupposto che le stesse energie rinnovabili non saranno sufficienti sugli fabbisogni produttivi di tutte le realtà che insistono all'interno della nostra provincia e allora la ricerca diventa fondamentale una ricerca applicata il parlare con le università il parlare con i centri di ricerca diventerà di grandissima importanza noi insieme a tutto il mondo produttivo ci vogliamo essere per costruire quel percorso che guarda l'interesse anche delle future generazioni uscire da una logica per la quale si ragiona solo per il giorno dopo e già immaginarci un processo che invece guardi ai prossimi decenni noi riteniamo che sotto questo punto di vista Break può rappresentare ancora una volta una grande opportunità in termini di riflessione ma in termini di concretezza perché è quello che ci ha sempre caratterizzato nel nostro modo di fare impresa lo faremo insieme noi ci saremo e saremo sicuri che tutti gli altri settori produttivi ragioneranno e si confronteranno con noi per creare quelle condizioni di sviluppo sostenibile ma di sviluppo che crei valore economico per tutte le attività produttive ora invito a fare il suo intervento il professor Giovanni Gregorini direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia forse un modo per sconfiggere il cronometro è giocare ad anticipo e concludere in fretta però il tempo per portare il saluto e il ringraziamento all'invito che è stato rivolto all'Università Cattolica c'è e anche per confermare la disponibilità dell'Università Cattolica a contribuire al progetto quindi non solo un plauso ma visto che si è parlato ampiamente di rinascimento ampiamente di humanities ampiamente di competenze trasversali l'Università Cattolica ha qualcosa da dire a questo riguardo e vuole starci per quanto sarà possibile noi riteniamo in virtù del secolo di storia che appartiene al nostro Ateneo e ai 57 anni di presenza a Brescia che la sfida che la società contemporanea ha di fronte è una sfida di nuova interpretazione della realtà e quindi una sfida di pensiero questo vuol dire accogliendo anche la sollecitazione che è venuta da tutti i testimoni all'intermine di spazio per l'espressione libera spazio per la diversità spazio per il superamento dei confini che ci sia la necessità di confrontarsi con quanto l'Università Cattolica ha da proporre e propone da tempo d'altronde questo probabilmente è l'unico modo per andare oltre la resilienza verso la plasticità per andare oltre la ripresa per andare verso la rigenerazione sistemica tanto per usare un lessico che ha a che fare molto con gli studi importanti e recenti di Confindustria Brescia e allora l'Università Cattolica che è una storica ma anche attuale e futura espressione di un cattolicesimo innovativo e strategico perché si muove sul fronte del capitale umano ci sta conferma la propria disponibilità a contribuire alla crescita di una città e di un territorio sempre più inseriti in contesti internazionali per cui davvero credo che sia molto importante uscire dalla logica della mera erogazione dei servizi e entrare nella logica della attrattività dobbiamo essere presenti nel mondo per riuscire a far sì che il mondo venga ad incontrarci se un ruolo per le Humanities ci deve essere e c'è mi pare che emerga l'Università Cattolica sempre ci sarà e sempre sarà a disposizione della crescita della nostra realtà territoriale ma globale grazie e concludiamo con l'ultimo intervento un intervento che orgogliosamente porta qua le banche del territorio a rappresentare un'unica voce quindi l'innovazione che comincia a prendere possesso del nostro futuro nella Brescia della città dell'innovazione sostenibile invito Marco Nava a portare il pensiero delle banche del territorio bresciano non so come leggere questo come ultimo partecipante rappresentante delle banche speriamo che sia qualcosa di positivo non di negativo saluto anche vi porto i saluti di qualche collega qui presente in sala qualcuno che è collegato voglio dirvi alcune cose ho preso molti appunti stimolante il vostro intervento non so mai in che categoria pormi se il giovane vecchio il vecchio giovane però sta di fatto che l'intenzione che voglio passare è quello di celebrare questo momento di festa oggi un giorno importante da celebrare in questa location meravigliosa penso che sia ormai scontato è ovvio dire che la sostenibilità per il modello economico sia qualcosa di basilare di fondamentale è qualcosa però a cui voglio fare un po' la campana stonata permettimelo Presidente è bello da raccontare nei convegni ma molto difficile da far entrare nella vita quotidiana nel pratico tutti parlano di sostenibilità tutti parlano di transizione economica ambientale sociale innovazione ma non si è mai pronti fino in fondo ecco quello che vorrei portare al valore di tutti è che dobbiamo insieme mettere a terra il più rapidamente possibile questi concetti e la cittadella può andare in questa direzione può essere fattore proponente propositivo per far sì che ciò accada altro dato che vorrei dare che questo possiamo farlo solo se saremo tutti quanti insieme tutti i portatori di interessi per cui dalla politica alle associazioni all'università alle imprese a tutte le persone che possono dire qualcosa comprese ovviamente alle banche devono fare di più devono fare meglio e devono fare questa cosa insieme dove vedo un piccolo un piccolo elemento di disturbo l'elemento potrebbe essere questo noi abbiamo grandi idee è un bellissimo progetto ma ha bisogno di grande pragmatismo il pragmatismo a cui mi riferisco è il pragmatismo che identifica un pensiero comune condiviso da tutti un obiettivo certo quantificato e misurabile un percorso ben chiaro con tappe di monitoraggio che possono dire siamo arrivati là in questo tempo con questo successo se sapremo fare questo secondo me faremo il successo di Brescia il successo delle nostre imprese del nostro territorio e chiudo dicendo con l'attenzione agli ultimi quelli che in questo percorso purtroppo magari hanno qualche difficoltà e vivranno qualche difficoltà in un prossimo futuro non bisogna dimenticare coloro che purtroppo restaranno indietro e purtroppo ci saranno queste persone dunque in bocca al lupo a tutti grazie complimenti grande anniversario e una buona giornata grazie e direi che sei intervenuto per ultimo ma credo che ci hai portato una sintesi delle conclusioni direi molto importante e quindi io mi unisco a quanto ha appena detto Marco Nava direi che oggi abbiamo festeggiato un bellissimo compleanno del CSMT e abbiamo la consapevolezza che Brescia c'è non c'erano dubbi su un progetto che sia un progetto vero concreto e virtuoso che proietti Brescia nel futuro noi crediamo che Brescia capitale della cultura nel 2023 possa continuare ad esserlo come capitale dell'innovazione sostenibile e quindi dobbiamo affiancarci in questo percorso che si può fare solo come oggi abbiamo visto con una città unita in un obiettivo ma con pragmatismo questa è la parola che io porto a casa cioè dobbiamo avere un progetto una progettualità molto chiara condivisa definire insieme la meta e spingere compatti verso il futuro della nostra bella città grazie grazie grazie